Centri passeggeri, chiediamo qualche minuto della vostra attenzione per coppia e simplici regole per un viaggio sicuro e confrontevole. È obbligatorio passare la moschilina, chirurgico o superiore, per coprire il maso e buca. La violazione comporta l'intervento delle forze dell'ordine e l'intervenzione del servizio alla prima stagione pubblica, e che potranno indossare sistemi di protezione per la sicurezza di tutti. I titoli di viaggio saranno controllati in modalità con la press. Preparate il vostro biglietto ed esibite il codice QR-23. Preparatevi quel tempo per la discesa del tren, seguendo il percorso indicato verso una volta riuscita, non sostante in prossima delle porte. Igenizzate frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispensari presenti al mondo treno, ed evitati il titolo del treno. Questo treno viene certificato in puntualità ai protocolli previsti dal Ministero della Salute. Acquistate i vostri biglietti e agonamenti sul tramitare.com e acqua. Per informazioni e assistenza chiamate al protetto di gratuito. 889-20-22. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.